Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica sul volume molare. Un buon punto di inizio per definire il volume molare è sicuramente quello di partire dal principio di Avogadro, per il quale, nelle medesimi condizioni di pressione e temperatura, volumi uguali di gas ideali di sostanze diverse contengono lo stesso numero di molecole. Detto, altrimenti, per un gas ideale, che si trova nelle stesse condizioni di pressione e temperatura, il suo volume e il numero di molecole, ovvero quello di moli che lo costituiscono, sono tra di loro direttamente proporzionali. La proporzionalità che c'è tra il volume di un gas e la quantità chimica che lo costituisce, cioè il suo numero di moli, è di diretta proporzionalità. Diretta proporzionalità che viene descritta con questa equazione, in cui V è il volume del gas, N è la quantità chimica del gas, mentre Vm è la costante di proporzionalità. In condizioni standard STP, STP è l'acronimo dall'inglese di Standard Temperature and Pressure, quando c'è questo tipo di sigla significa che il gas è stato preso alla pressione di 1 atmosfera e di 0 gradi centigradi. In condizioni standard questa costante vale sempre 22,4 litri fratto mol. Questo è proprio il volume molare. Il volume molare è quindi una costante identica che rimane invariata per ogni tipo di gas, sempre che il gas stesso si trovi in questa situazione. Applichiamo questa equazioncina ad un caso molto semplice. Prendiamo il diidrogeno, H2, e ne prendiamo 1 mole. Vorremmo chiederci che volume occupa il 1 mole di H2, di idrogeno, di gas di idrogeno in condizioni standard. Allora bisogna prendere questa equazione, inserire qui all'interno, 1 mol e moltiplicarla naturalmente per il volume molare. Eseguiamo il volume di H2 è uguale al volume molare in condizioni standard per la quantità chimica di H2. Sostituiamo 22,4 litri su mol, questa è l'unità di misura del volume molare, per 1 mol. Vediamo che mol si semplifica a numeratore e a denominatore e il risultato ammonta 22,4 litri. Concludiamo che 1 mole di molecole di idrogeno alla temperatura di 0 gradi centigradi e alla pressione di un'atmosfera occupano 22,4 litri. Facciamo altri due esempi, leggermente più complessi ma per modo di dire. Il primo riguarda il diossido di carbonio, CO2, anche questo lo prendiamo in condizioni standard, STP. Attenzione che questa equazione non la si potrebbe poi applicare e soprattutto il volume molare non avrebbe questo valore se non fossimo in condizioni standard. Pertanto gli esercizi di stichiometria che poi proporremo saranno eventualmente sempre in condizioni standard, quando potremo applicare questa equazione qua. Allora, CO2, prendiamo una certa quantità di volume, di CO2, ad esempio 3,74 litri, una quantità arbitraria, e vorremmo calcolare in 3,74 litri quante moli di CO2 corrispondono, ovvero la quantità chimica corrispondente in condizioni standard. Applichiamo la nostra equazione, dalla quale però bisogna esplicitare la quantità chimica di CO2. Sarà uguale al volume di CO2 fratto il volume molare, inseriamo al posto del volume di CO2 i 3,74 litri, dividiamo per 22,4 litri su mol, che è il nostro volume molare, e otteniamo 0,167 moli. Vuol dire che in condizioni standard di temperatura e pressione, 0,167 moli di CO2 occupano un volume di 3,74 litri, o viceversa, 3,74 litri di CO2 in condizioni standard contengono 0,167 moli di molecole di CO2. Un altro esempio ancora con il diazoto. Diazoto in condizioni standard, quindi prendiamo gas, una quantità chimica di N2 corrispondente in maniera arbitraria a 2,45 moli. vorremmo scoprire a quale volume in litri corrisponde. Ancora, applichiamo la formulettina, il volume di N2 è uguale al volume molare per la quantità chimica di N2. Sostituiamo 22,4 litri su mol, lo moltiplichiamo per 2,45 moli ed otteniamo 54,9 litri. Abbiamo scoperto che in 54,9 litri di di diazoto N2 in condizioni standard ci sono 2,45 moli di molecole di N2, oppure 2,45 moli di molecole di N2 in condizioni standard di temperatura e pressione occupano un volume del gas corrispondente a 54,9 litri. Spero che questo video vi sia stato di aiuto, grazie dell'ascolto e alla prossima!